Buongiorno, benvenuta nel mio negozio, questo negozio tratta diversi prodotti, lei cercava qualcosa in particolare, si mi scuso per il rumore ma ha fatto il forte caldo, abbiamo deciso di accendere il condizionatore e i vari ventilatori, perché sennò molti dei nostri prodotti potrebbero subire dei danni, dovuti all'alto calore, le serve qualcosa in particolare, le posso consigliare io, ok? Allora, come linea di tonzare abbiamo questi qua, che sono perfetti per l'aperto, come puoi vedere sono col campo e hanno un spazzino, come puoi vedere sono per, senza essere normali di tigre, quindi le posso usare per l'aperto, per fare sport, questo qua viene da 2,50 euro l'incendio, e comunque c'è moltissimo dentro, questo qua sempre quello che uso io, che era quasi finito, e come l'utore non dà fastidio, lascia questo piccolo pallone bianco, che vado a fare così, e lei non si spetta sulla pelle, poi mi raccomando, se tocchi i vari occhi, vado a passare, una sargentina sulle mani, il capello, questo, spruzzato su tutto il corpo, comunque sono le parti interessate, ma a me sulle mani, perché poi le tocca gli occhi, ovviamente brucia, questo qua comunque lo consiglio ugualmente tantissimo, perché invece trovo benissimo, lo uso anche sui tessuti, può usare i suoi vestiti, e non macchia, non luccia, lo può usare anche all'aperto, anche e soprattutto con l'area, io glielo lascio da parte, c'è anche col tappo blu, o col tappo verde e bambino, io glielo lascio da parte, un po' come al suo prodotto che utilizziamo moltissimo per utilizzare, sono queste tettine, sono per avanzare con lui, ma io le uso anche tutti i giorni, quando è magari a molto caldo, per me ora, passano due, dipende quanto vuole che sia intenso, e sono rinfrescanti, e sono impregnate, e è abbastanza molto benissimo, magari quando fa veramente tanto caldo, e vuole farci anche una rinfrescata, con delle salviette, senza che la buca, qua ce ne sono 15 dentro, questo è un po' molto bene, e può portare anche un borsetto, e poi, questo è antizzanzare, abbiamo dei prodotti per l'estate fantastici, ad esempio abbiamo questo, un latte dopo il sole, un latte dopo il sole, si bevono anche le protezioni solari, in questo momento col tappo, da tutto il magazzino, o magari, le forfette delle proprietà, questo è un latte dopo il sole, con, quello, non è il latte dopo il sole, con il sole, con il frigo, la metto in frigo, questo è un po' più fresco, è molto 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 buono, e un misturo molto bene, Questo viene tra i due o tre, dipende dalle offerte che abbiamo imporso. Mi piace? Poi vi faccio provare un po'. Poi abbiamo, sempre per l'estate, questa palla doccia gel della nevia. E' un certo gioco che io utilizzo moltissimo consiglio per chi va in piscina al mare e vuoi tarsi la rinfrescata dopo. Puoi muovere anche per casa perché comunque è molto piccolino. Puoi vedere? Ah, i fiori di lodo. Infatti è una fraganza dell'infea. L'odore è freschissimo. E questo è una microsfera. Mi sono molto 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 rinfrescanti. Fa un leggero scrap ma senza togliere la bronzatura. E questo qua costa su 1,9 euro e 50 circa. Prossimo 2 euro. Ma è un'offerta da noi trovo sempre con la nostra testa 1,50 euro. E' un'offerta da noi. E' un'offerta da noi. E' fantastico. Come altri prodotti, abbiamo poi le nostre pacchettine. Che fai sono venute a pacchetti 10. Sono tutte disinfettanti, vanno bene per qualsiasi tipo di luogo. Si trova in giro. In polma, su macchina. Le cose salchettine qua. Sono vigenizzanti. Sono le tasse chiepe che sono tipo di limone. Non hanno fastidio. E vendiamo pacchetti che mi piace. Che costano intorno a 99 centesimi al pacchetto. Poi abbiamo questa crema per le mani. Visto che utilizziamo molto le salviette e la unchina. Questa cosa deve rigenerare le mani. Se non le piace piccola così. Abbiamo anche il formato più grande. Che è questo qua. Questo qua è il più grande del cartel. Questo qua invece è... La rigenerare le mani. Questo qua è il più grande. Questo è un po' da viaggio. Questo qua costa sui 2 euro. Questa cosa non so qualunque. Un euro o qualcosa contiene più questa qua. Se invece vuole un prodotto molto vestito. Abbiamo questo qua che è più piccolino. Però la linea delle alghe. Sempre una crema male. Però... Un prodotto è buonissimo. Un po' più piccolino. Però fantastico. Veramente fantastico. Abbiamo questi senti qui un po' per le mani. Mi piace questo qua. Questa linea è veramente fantastica. Io ho già sentito... Ho già venduto tutti i profumi. E gli scrub estivi. Sì, sì, ma poi ritornerà. Ritornerà. Sì, poi vengono anche le alghine. Ovviamente senza tanti. Per le mani. Dobbiamo prenderli per la manina di legge. Questo non è tanto cattivo. È molto... Molto buono. Mi basta veramente poco. E... Si asciuga molto facilmente. L'odore è un po' forte. Ma... Come vede... Si asciuga molto facilmente. Perché questo è tutto un po' cenno. Come vede... Mi trovo molto bene costato. Un euro e cinquanta. Due euro. Quello più grande. Si si. Può mettere anche in borsa. Non si rovescia. Mi trovo molto bene. E poi lo può anche ricaricare da noi. E lo paga molto bene. Poi si. Abbiamo anche delle creme a corpo. Per di questa linea qua. Ho questa qua in offerta. Questa è un tester. Come puoi vedere. Questa è sempre delle linee delle albiche. È buonissima. E questa... Adesso mi ricordo che prendiamo tutto un pacchetto. La crema. Con la crema in mani. Con lo scrub. Facciamo vari pacchetti. Però... È fantastica. E... Ho fatto. E... La crema. ha un odore, ripeto buonissimo, molto fresco, le ho lasciato a parte così ci penso, poi con altri prodotti abbiamo anche dei profumi, questo profumo è fantastico, perché va benissimo per la sera, è molto intenso, però per la sestia vanno bene, è saldi red vaniglia, però non è tanto dolce, questo può stare circa sui 10-11 euro, il basilo verde, c'è il red vaniglia e il red bagiuli, poi abbiamo anche i titoranti, i titoranti abbiamo tutti, la saliniana autoro ho perso, sono tutti fatti così, con la sfera, questo è per dopo la depilazione l'antugia, è un alcol, è molto fresco, poi abbiamo un'alternativa per l'estate, questo qua che è molto molto fresco, che è appunto, e là è verde, ovviamente per la depilazione non è il massimo, però rimane molto, molto, molto fresco, sempre bianco, non lascia mancchia né l'alore, come un ottimo prodotto, che è molto utilizzato, è questo qua, su qualsiasi interiori, che ha un odore molto forte, tipo miglio, galluto, è di mentolo, che serve contro le irritazioni, contro le punture stanzara, è molto, molto versatile, è fantastico, questo è un odore che si può fare anche sui capelli, e lascia un odore molto, che serve passano le bocce, questo qua è un odore piccolino, sui 4-8 euro, dipende dalla casa produttrice, però da noi un odore sempre scontato è anche più, 25 euro, 50, è veramente molto versatile, lo uso anche per i capelli, non c'è poco poco, però è fantastico, perché mi piace tantissimo l'estate, poi, allora, 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 interessa, la linea, questa qua, ok, poi, anche il bagno schiuma, perfetto, una bocchina, ok, anche queste te ne metto due, il tetrio, ovviamente, io prendo il pacco più grande, o quello più piccolo, quello più grande, ok, un pacco di salviettina, ok, le metto tutti insieme, io, una bustina, e le metto da parte, poi, anche la salviette, le mettona, l'uova, sta bene, e il rosso spray, un po' sole, no, ok, lo spegniamo col punto, l'omaggio, mi piace dei campionicini, che sono di profumo, questi qua, sono da caffè in creme, anche di dolce campana, anche di fascia, delle creme, così le provate, si, 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 può fare la nostra testa quando vuole, si, va bene, un attimo, io la faccio tutto, ok, si, che ha solo il mio cognome, per la rinascita, molto giovane, allora, ingilizzo mail, mail, ok, è un numero di telefono, se vuole essere contattata di SMS, per le nostre offerte, sconti, novità, ok, perfetto, allora, adesso io le manderò l'email, e coperno l'email, lascerò la nostra testa, è tutto per tutti, ritroverà in cassa dalla mia collega, e il pacchetto di vedete in cassa, io le consiglierò, poi con la busta e la testa, quindi auguro una buona giornata, spero che questo suo acquisto, il mio negozio sia piaciuto, e spero di rivederla presto, si, si, ci arriveranno tantissime altre cose in omaggio, se ho altre cose in offerta, e per questo è stato avremo anche in omaggio, tantissime cose, tipo troviamo di spesa di 30 euro, e regaliamo sempre un po' dei campioncini, o comunque maschere al viso, o qualcosina, adesso, se lo sbaglio, il mese di luglio, abbiamo in omaggio delle salviette, o degli cerni santemani, a presto, mi raccomando, una buona giornata.